Via via organizzati meglio e hanno cominciato a dominare a centro campo. Ecco una delle poche azioni dell'Atalanta nel primo tempo. Bordone impegnato da un passaggio indietro del suo terzino. L'Atalanta ha avuto paura dei fantasmi e si è disunita dando spazio a Pazinato e Beccalossi. Così gli ospiti hanno finito con il giocare a loro piacimento, affondando azioni a destra e a sinistra quasi indisturbati. Vedete le fasi del gioco con gli atalantini che stanno praticamente a guardare. Come è accaduto anche nell'azione del gol, che vedremo al termine di questa azione. Ecco Pazinato che si impossessa del pallone. Vince un facile contrasto, quando qualcuno gli si decida a farsi contro. Eccolo, supera l'avversario, va sul fondo, mette al centro, testa di Muraro. Gol con l'aiuto della traversa. In realtà Bodini aveva parato, ma ha buttato sulla traversa che a sua volta ha rimbalzato dentro. Con il passare dei minuti nella ripresa, soprattutto l'Atalanta ha cercato vanamente di andare all'assalto dell'Inter. Non c'è mai riuscita, anche perché via via che trascorrevano i minuti, gli atalantini sentivano su di loro il peso di questa precaria posizione in classifica. E alla fine ci sono stati tre ammoniti, Eero e Tavola, che ha raggiunto gli spogliatoi 20 minuti prima del tempo. Grazie a tutti.